Si raccusa il progetto Icaro dalle mascherine al casco, 21esima edizione in webinar, 10-16 dicembre. Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, numerose sono state le istanze pervenute dal mondo della scuola, tese a sollecitare la ripresa formativa dell'educazione statale, elevata quest'anno a materia di insegnamento nell'ambito dell'educazione civica. Gli attuali e recenti provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado ha imposto però di sperimentare modalità di formazione alternative al fine di sviluppare una promozione della sicurezza statale attraverso la realizzazione di iniziative e la creazione di modelli di intrattenimento diversi in questa non facile fase didattica a distanza. Pertanto, nel rispetto dei provvedimenti governativi, finalizzata la tutela della salute dei cittadini, l'ufficio del compartimento polizia statale della Sicilia orientale, in assequio alle direttive impartite unitamente all'ufficio scolastico provinciale di Siracusa, ha in programma la realizzazione del progetto Icaro, giunto quest'anno alla sua ventunesima edizione attraverso una serie di incontri in modalità webinar rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado da effettuare direttamente dagli studi radio-televisivi dell'emittente regionale FM Italia. I singoli docenti avranno così la possibilità di collegarsi in diretta a streaming con l'ansidetta emittente, condividendola con le rispettive classi sulla piattaforma utilizzata per la didattica a distanza. Sarà così possibile usufruire di percorsi formativi rimodulati, in modo tale da consentire ai docenti la realizzazione del progetto anche a distanza e per un numero rilevante di studenti. Inoltre il collegamento radio-televisivo permetterà di rendere maggiormente fruibili, efficaci e incesivi i contenuti della formazione curata dai tutor della Polizia Statale anche attraverso la visione dei video tutorial appositamente creati che fungendo da attivatori emozionali consentiranno di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza statale. Nel corso degli incontri i ragazzi avranno altresì la possibilità di confrontarsi con testimoni del mondo dello spettacolo, della comunicazione, della cultura, della scienza medica e dello sport tra i quali le campionesse delle fiamme ore della Polizia di Stato Valentina Vezzali e Chiara Fontanesi. Testimonio d'eccezione saranno Fabrizio e Federico Sansone in arte e Sansoni. Il risultato finale sarà quello di informare e formare i ragazzi la piena consapevolezza dell'importanza di tutelare la propria e altrui vita in un periodo in cui l'espressione sicurezza assume un'angolazione più ampia che va da quella sanitaria a quella statale, dall'uso delle mascherine al casco, dalla consapevolezza dei rischi all'attivazione dei comportamenti adeguati anche per affrontare l'attuale stato emergenziale da Covid-19. Date per gli incontri webinar sono state fissate per il 10 dicembre e il 16 dicembre nella fascia oraria 9.10-9.50.